Ora ti dico tre cose, una ti devi lavare bene le mani, due devi evitare assembramenti, ma la cosa più importante devi fare file nei supermercati perché questi saranno sempre riforniti, ok? Ora ripeti, distanza a un metro, no assembramenti, si file chidometri che... No, no, non è quello che ho detto, dai, per favore, ripeti. Distanza a un metro, no assembramenti, si file chidometri che... Ok, ho capito, siamo spacciati.